Dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro arrivano chiarimenti circa i distacchi in Italia in applicazione la direttiva 957 della 2018. Ben ritrovato in una nuova puntata di Echitalia News. Con la circolare del 19 ottobre scorso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una serie di precisazioni in merito alle condizioni di lavoro e occupazione, inclusa la determinazione della retribuzione in caso di distacco di lunga durata in Italia. Nel dettaglio la circolare chiarisce che conformemente al decreto legislativo 122 del 2020 di attuazione della direttiva numero 957 del 2018, al distaccato in Italia devono essere garantite le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Tali condizioni sono identificate in quelle disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi. Per individuare dunque la retribuzione spettante ai lavoratori distaccati in Italia, in base alla direttiva 957, è necessario fare riferimento a quanto previsto dalla circolare dell'Ispettorato numero 1 del 2017, che elenca gli elementi da considerare, tra cui paga base, indennità per anzianità di servizio, superminimi e corrispettivi per lavoro straordinario. La circolare poi torna a precisare che le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco, che non siano versate a titolo di rimborso delle spese sostenute, devono essere considerate parte della retribuzione. Inoltre, nel caso di distacchi di lunga durata, oltre 12 mesi oppure più di 18, in caso di notifica motivata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'articolo 4 bis del Decreto Legislativo 122 del 2020 assicura la parità di trattamento rispetto a tutte le condizioni di lavoro e occupazione stabilite anche dai contratti collettivi, tranne che per le seguenti eccezioni. In particolare, le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza, la previdenza integrativa di categoria, condizioni che pertanto rimangono regolate dallo Stato d'origine. Per tutti gli approfondimenti legati a questo tema, l'appuntamento è il 15 dicembre, con gli esperti di ECHE Italia al convegno gratuito Lavoratori Stranieri in Italia. Per chi volesse maggiori informazioni e per partecipare è possibile scrivere a formazionechiocciolaechitalia.com E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.